salve a tutti simmers bentornati nel mio canale io sono marichelle e oggi siamo nella after cinderella challenge allora siamo qui con i nostri a con i nostri personaggi e a dicevo appunto guardate dove li ho piazzati come vedete non sono più nella villa diciamo nella loro villona nel loro castello ma sono in questa umile dimora in questa dimora diciamo gigantesca e con questa piscina gigante ed è bellissima l'ho scaricata e perché mi sembrava giusto trasferirli non più in un castello ma in un posto comunque molto molto da principe diciamo però un po diverso quindi vediamo l'interno era vuota questa quindi l'ho decorata io prendendo un po dalla galleria un po facendo io un po un po ecco diciamo e quindi qui ho messo la cucina eccola qua quanto è bella qui c'è il salottino salottino salottone la tv insomma tutte le cosine poi al piano di sopra qui ovviamente c'è la royal baby la camera del bambino un bagnetto vabbè qua non è niente di che bisogna dare darlo un po un piccolo corridoio qua c'è il bagno e qui si va in camera da letto e qui naturalmente c'è un altro bagno quindi lasciamoli andare e in questa puntata saluto alice pascali luciano samosata francesca fornelli e francesco longo ciao e saluto naturalmente sempre tutti gli altri anche ecco si sta liberando del cibo che ha mangiato lei sembra particolarmente felice e dobbiamo assolutamente in questa puntata cambiarle la gli abiti perché non è più cenerentola la serva la schiava ma è una principessa adesso comunque lui avrebbe fame avrei bisogno anche di lavarsi quindi non andare a dormire subito approfitta che c'è un bagno anche qua fai un bagno e proviamo la cucina vediamo se qualcosa 9 in frigo si c'è la torta ok prendi un pezzo di torta tu di cosa vorresti fare avresti un po di sonno ma io direi andiamo a cambiarci abito e scegli abiti ok ragazzi allora abiti quotidiani ho scelto questi che si sono abbastanza semplici però non so anche un po regali visto che la principessa formali aiuto sportivi molto semplice da notte da festa ecco gli ho messo questo cappellino visto che è pur sempre una reale e poi da bagno mentre il nostro lui direi che lo possiamo tenere anche così perché molto elegante sportivi si ce ne abbiamo sempre molto elegante quindi secondo me lui sta bene anche così perfetto quindi iniziamo a giocare eccoci qua ragazzi allora io direi mentre lui si sta divertendo nella vasca da bagno più felice di così non potrebbe essere sono felicissimi comunque guarda notare il viso di lei proprio la felicità allora io direi mandiamola a cucinare qualcosa perché vorrei che imparasse a servi brunch benissimo non lo so un tramezzino vorrei che imparasse l'abilità di cucina per quando usciranno perché non stai andando ah perché è già passato il brunch vabbè tramezzino farò lo stesso per quando usciranno i ristoranti visto che ho letto che si potranno comprare quindi la cosa migliore è farle imparare l'abilità di cucina così poi magari potremmo farla lavorare come cuoca o non lo so come il lavoro di cuoco c'è già però penso come cameriera non lo so poverina sempre da servire ma vabbè come no no adesso si farà comunque la bella vita è giusto perché vogliamo provare i ristoranti quando usciranno quindi dobbiamo assolutamente farle imparare a cucinare insomma qualcosa allora intanto lei è solo a livello 2 sì in effetti quindi si perde un po via sta pensando ad altro sta pensando ah che bello mi sono sposata cioè questa cucina è troppo carina ditemi cosa ne pensate vabbè c'è questo questo coso che esce ma vabbè ma dettagli ditemi anche a voi cosa come vi sembra non lo so a me piace veramente tanto lui è stanco un sacco ma io volevo fargli fare un figlietto però vabbè non subito dai vai a dormire dormi e tu magari mangia qui c'è il tramezzino eccellente addirittura è la felicità che ti permette tutto ciò eh di la verità è la felicità di stare con il principe anche lei comunque è stanca quindi quindi andiamo a riposare intanto non approfitto vi faccio vedere bene la casa comunque ve l'ho fatta vedere però è un sacco dettagliata un sacco di cosine anche queste cascate e poi nella camera del bambino c'è addirittura questa questo box così carino ma tu perché non vai a dormire se non dirmi che non posso andare a dormire dormi sì posso no sì dai che avete una casa bellissima è anche molto rilassante come casa devo dire ah manca un lavandino ragazzi manca il lavandino ci sto facendo caso solo adesso ok e vai a dormire devo assolutamente prendere le ventoline per tenere il computer proprio bello fresco fresco in modo che non si allora luci automatiche tutte le luci quindi spegnetevi pure grazie ah poi alla sera li mandiamo in piscina a fare un bagno in questa puntata si godranno la casa perché è bella è proprio bella e poi cercheremo di fargli avere ovviamente un bimbo senza il bambino come si fa però vedete in tipo in the sims 2 e in the sims 3 si abbracciavano quando dormivano invece in the sims 4 no allora lui ha fame e poi il letto era scomodo no ma veramente era scomodo allora dovevo cambiarlo mangia prendi una porzione di questo e tu direi svegliati un attimo magari e vai in bagno non pensavo che il letto fosse scomodo in effetti deve essere di una qualità si cioè è bello da vedere però la qualità non deve essere molto alta quindi cambiamo il letto ok e poi direi socializzato un po' no allora lui cosa vorrebbe fare? stringerla benissimo e lei flirtare allora vai da lui e flirta subito siete no belli sposi quindi se non lo fate ora cioè non lo devo dire allora esprimi affetto interazione flirta flirta anche io te la faccio stringere assolutamente sì dovete fare tutte le cose romantiche che vi vengono in mente magari intanto potresti complimentarti complimentati all'aspetto che carine bravi vedevi le cose belle poi visto che hai finito il tramezzino ormai potresti baciarla e poi stringerla visto che la vuoi stringere allora stringila brava lei non ha ancora flirtato non ha ancora flirtato lei allora romantico flirta un pochettino e tu vorresti baciarla ancora magari appassionatamente fai il baciamano bacio appassionato assolutamente sì baciala appassionatamente bravi bravi e poi io direi che è arrivato il momento anche di cercare di avere un figlio magari questo in una maniera normale questo che nella challenge l'abbiamo avuto nella 100 baby challenge 100 baby challenge l'abbiamo avuto in testuglio qui andiamo a letto andiamo 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 a figliare questo l'ho avuto via io no arrangiate dai ma perché si bloccano qui così cioè non lo so non capisco sta cosa cerca di avere un figlio dai questo è il punto di nessuno qua loro si perdono non sono ancora adeguati alla casa nuova va bene comunque avete anche un letto comodo adesso quindi meglio di così oley accendiamo le candele no veramente l'avete già fatto la prima volta si l'avete già fatto si dai il letto ci sta abbastanza ci sta abbastanza e vediamo vediamo se è incinta o ci teniamo il mistero per un po' potremmo tenersi un po' il mistero allora lui deve andare in bagno potremmo organizzare anche una piccola festa che dite se ci teniamo il mistero ragazzi io direi in questa puntata non non facciamole fare il test spariamo a indovinare cioè lasciamo così quando lei inizierà ad avere dei sintomi se li avrà sapremo se è incinta allora fai una torta di carrube e cocco perché tuo marito vuole fare una piccola festicciola in casa allora invita nel lotto attuale no pianifico un evento sociale assolutamente sì lo direi anche in casa allora festa a ballo festicciola bianco e nero ah non ci sarebbe male festicciola bianco e nero risurre esercizionati però no lasciamo stare festa in casa normale non evento di prestigio non pubblichiamoci la vita padroni di casa loro due e ospiti ah 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 invitiamo le sorellastre ragazzi le sorellastre però scusate se ne rento la conosceva tutti quei ragazzi aspettate un secondo se ne rento la conosce più gente ora che ci penso facciamolo fare a lei tu invece cosa potresti farti un bagno di fango e ti rilassi mentre tua moglie cucina una torta di caruba e cocco per gli ospiti e ripulisce questo piatto magari poverina ma no ma anche adesso devi pulire no non ripulire niente sei la principessa ecco potremmo in teoria chiamare un fornitore di catering ma appunto voglio farle imparare a cucinare perché lei sta pensando agli incendi non hai torto effettivamente dovrei mettere un allarmante incendio ma appunto vorrei farle imparare a cucinare così magari la mandiamo a lavorare o a comprare un ristorante la facciamo comprare un ristorante quando uscirà game pack ok la torta è fatta dove l'hai messa qua ce l'ho veramente era nascosta fai subito pianifica un evento sociale allora tu cara chi conosci ah è lui con la maschera ok no si è dimenticata già di tutti quegli altri lei conosce tanto quanto tutti quelli conosceva lui alla fine anche meno ma veramente ma intrattenitore no mixologo si chiamole a caso magari fornitore di catering ma si ecco qualcuno che cucina lei Clara brava e restiamo qua invitiamo quell'antipate che solo per farle rosicare e allora facciamo prendiamo un pezzo chiama tavola magari come stai bene con questo cappellino si insomma ma non sono sicura che stai bene col cappellino fatemi sapere se sta bene secondo voi gli ho lasciato le scarpettine di cristallo da notare ecco qua le scarpettine speciali glielo lasciate eccoli qua si sta arrivando sta arrivando un ospite ragazzi e invece le di tre me sono arrabbiatissime non vengono ah ecco no no stanno arrivando anche tutte eleganti con il vestito come a dire cenerentola ci fai un baffo ma tanto cenerentola sta col principe e sarei solo curiosa di vedere se è incinta oppure no tra l'altro quindi ragazzi ditemi se secondo voi è incinta mi raccomando tu cosa ti stai bevendo cos'è ah tea alette di pollo fritte perfetto ok dai scambia due parole ma ringrazia per la presenza lei sta cercando di calmarsi probabilmente allo specchio si sta dicendo no rilassati rilassati cenerentola sì cenerentola è la principessa ma io non mi devo arrabbiare non mi devo arrabbiare allora cerca di calmare dai vai a cercarla di calmare le di tre men vai vai intanto tu stai parlando con lui sì al bagno mi sembra giusto dove si parla avanti della famiglia forse io ho messo incinta mia moglie che bello che bello oh sì spero per te che l'abbia messo incinta spero veramente per te che sia andata così tu invece tanto stai di ferma mi raccomando lei è tristissima no ma è bellissimo vedere che sembra tutto vero cioè sembra veramente che siano tristi perché cenerentola è diventata no Genoveff è tristissima questa cosa mi sta facendo troppo ridere ok dai calmala poi ringraziala per la presenza nonostante tutto adesso si è calmata comunque falle un complimento e adesso lei fa come si dice fa cattivo gioco no nel senso si adesso la devo tenere buona cos'hai ti manca la famiglia sente già la mancanza di cenerentola è un romanticone e impara a conoscere e intanto direi andiamo subito da cenerentola quindi impara a conoscere cenerentola vabbè tua moglie insomma mi pare che vi siete conosciuti parecchio allora però impariamo a conoscerla magari vuole sapere qualcos'altro di sua moglie impara a conoscere vai in questo bellissimo salotto dai vai inutile che stai lì intanto le altre cosa stanno facendo sono qui poco convinte lei triste tipo così si stanno come ecco che si stessero dicendo guarda guarda che situazione in cui ci siamo trovate ora dobbiamo essere gentili con cenerentola lei mi ha trattato male fino adesso romantico flerta cioè felicissima più felice di così che lei non potrebbe essere proprio ah è lui ah lei perfida ok ah mi avete consigliato di premere col tasto ah ok si solo una volta invece che fare due volte solo una volta col tasto destro del mouse grazie lo farò ha raggiunto il livello 3 di carisma intanto cenerentola bravissima chiedere cenerentola la sua giornata basta cucinare però allora abbiamo messo un po' di musica sapete cosa manca manca un qualcosa per la musica ok fatto ci sta così dai ma andiamoli a ballare anche magari un attimo allora accendi musica d'ambiente musica d'ambiente va bene e vai a ballare balla e anche tu direi balla balla anche tu anche perché è molto fiducioso lui quindi magari impara a ballare più in fretta lui sta già andando perfetto lei sta morendo di fame ma con tutta la roba che c'è da mangiare può mangiare tutto quello che vuoi praticamente ok si infatti lui sta imparando più in fretta a ballare ragazzi guardate che come sta imparando in fretta fantastico però voglio vorrei che aggiungessero il ballo lento perché anche al loro ballo non ho potuto farli ballare ho dovuto farli flirtare così allora infatti chiedere a Dama una giornata ha detto parlate tra di voi rallegra si lei si sta scatenando benissimo esprime ammirazione parlate parlate e la festa è finita benissimo e io direi che si può assumere una cameriera però allora assumiamo una cameriera chiama per un servizio oddio devo andare al bagno cameriera continuativa ti prego non portalo addosso ok se ne sta andando tutti intanto fai bene a chiamare la cameriera dal bagno che non puoi resistere no no falla 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 usa test di gravidanza ancora no ok la cameriera arriva giovedì è continuativa almeno questo allora fai una cosa visto che tua moglie per tutta la vita ha servito direi riponi dai che poi chiudiamo la puntata riponi poi fai un ripulisci e questo lo riponi questo lo riponi e questo ti aiuto io ce la faccio si e ripulisci dai avanti perfetto allora ragazzi io direi noi ci possiamo ripetere l'ambito normale magari cambia abito quotidiani mi fermo con questa immagine lei che in teoria potrebbe fare un test di gravidanza quindi noi ci possiamo fermare qua ditemi se secondo voi lei è rimasta incinta oppure no e mettete un bel like se il video vi è piaciuto e commentate iscrivetevi se non l'avete già fatto e noi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti